Gentili telespettatori, buona giornata. Il dopo Toti in Liguria. C'è un sondaggio interno che dà la maggioranza vincente contro Orlando. Vediamo quali sono le percentuali dei vari candidati. L'ex ministro Andrea Orlando potrebbe essere sconfitto sia pur di misura da ogni papabile del centrodestra. Quindi Euromedia Research dà il 47,7 contro il 52,3. Quindi il 52,3 del candidato del centrodestra e il 47,7 del candidato del centrosinistra Orlando. E poi abbiamo Marco Scaiola che potrebbe essere al 52,1%, la candidata Ilaria Cavo al 52,3%, il leghista Edoardo Rixi al 51,3% e poi il vice sindaco di Genova Pietro Picciocchi potrebbe avere il 50,4%. Il 40% degli interpellati si dice convinto che il centrodestra si terrà la regione contro il 31%, però sinistra. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.